Oh bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ho avuto una idea. Nell'ambito degli investimenti si dice sempre una cosa, cioè quella di seguire gli investitori istituzionali, quello che fanno, o nell'ambito delle criptovalute, noi parliamo delle balene, e cercare di capire quello che fanno gli investitori poco esperti, chi non ha formazione nel trading, negli investimenti in generale, e fare esattamente il contrario. Perché ragazzi? Perché di solito chi è poco formato, chi non ha esperienza negli investimenti, perde denaro in questi mercati. Perciò basta capire quello che fanno loro e fare il contrario. Qualcuno di voi sicuramente conosce la teoria del parco buoi, cioè delle persone che sono preda delle emotività nei mercati finanziari e fanno semplicemente questa cosa qui ragazzi. Quando le cose vanno bene, vanno gonfie vele, passano dall'ottimismo all'euforia, incominciano a comprare strumenti finanziari che stanno salendo, che sono probabilmente ai massimi storici. Al contrario, quando i mercati crollano, si prende tutta la perdita ragazzi, non stoppa mai le posizioni, perché non sa applicare lo stop loss, perché c'è il problema di non voler accusare la propria perdita, un bias cognitivo, un bias emotivo ragazzi, che conosciamo tutti, perciò quando i mercati vanno giù, l'investitore parco buoi, chiamiamolo così, non vende mai ragazzi. Poi quando i mercati tornano a salire, al primo rialzo, tac, vendono. Se io potessi andare a vedere i famosi holder sul mercato, a che livello sono? Se gli holder sono tanti sul mercato, probabilmente il mercato è vicino ad un minimo e non scenderà più. Se invece gli holder sono pochissimi ragazzi, probabilmente il mercato sta andando a fare i massimi ragazzi. Perché? Perché probabilmente sono usciti quando hanno visto i primi rialzi e quindi dopo i primi rialzi hanno preso profitto e probabilmente gli holder ci possono dare, in questo caso, la via, l'informazione che cerchiamo in maniera alternativa se il bitcoin ha fatto già i minimi o no. Volete sapere i dati? Se volete sapere i dati, iscrivetevi al canale e lasciatevi un pollice ragazzi in su perché mi aiutate, come sempre lo sapete, e poi attivate anche la campanella e soprattutto io ve li faccio vedere i dati. Ma voglio sapere quello che pensate voi perché i dati li ho trovati e vi faccio vedere un solo grafico che commenteremo insieme ragazzi e sarà sbalorditivo. Probabile minimo fatto per bitcoin, il minimo del ciclo dell'halving probabilmente. Andiamo sui grafici. Ok, siamo sui grafici, non vi arrabbiate perché questi grafici ragazzi ce la dicono lunga, lunghissima, su questa metafora che vi ho raccontato prima. Quello che vedete, quelli che vedete qui nella linea nera sono gli holders ragazzi e la percentuale degli holders sul mercato. Questi che vedete invece con la striscia grigia chiara e sono gli speculatori, quindi quelli che sono all'interno del mercato per fare speculazione sui prezzi. Molti definiscono i trader speculatori ragazzi, non è proprio così. Sono degli investitori evoluti. Allora, e poi quello che vedete in verdino vedete è bitcoin, cioè il prezzo di bitcoin. Gli holders sono tantissimi quando il mercato è crollato, cioè quando ha raggiunto il suo minimo. Perché questo ragazzi? Perché gli holders in linea di massima non applicano quella che è la teoria dell'investimento che ti dice lascia correre i profitti e stoppa le perdite. Quindi gli holders di solito o in questo caso diciamo li chiamiamo holders ragazzi, però qui in questo numero ci sono sia gli holders quelli consapevoli sia quelli che sono solo parco buoi, che è una cosa totalmente diversa. Quindi ovviamente bisogna fare la differenza fra gli holders consapevoli. sapete che anche io una parte di bitcoin sono sempre in hold quindi nell'ambito criptovalute c'è una bella differenza. Cerchiamo di rispondere a questa domanda. Il mercato di bitcoin ha fatto il minimo? Se ha fatto il minimo già ragazzi del ciclo dell'halving e quindi ha iniziato a riprendere un trend crescente noi avremo gli holders tecnicamente che sono ai massimi livelli. Andiamo a vedere se è così. Allora vedete che nel 2015 ragazzi gli holders sono ai massimi guardate qui sono ai massimi esattamente in queste in questo periodo ragazzi da qui a qui e guardate un po' il prezzo di bitcoin il verdino come corrisponde alla perfezione a questa situazione cioè ai minimi degli anni 2015 quando bitcoin ha fatto in sostanza il suo trading range di accumulazione per il nuovo rialzo del nuovo ciclo dell'halving rialzo che poi ragazzi sapete bene ha portato ai massimi storici di bitcoin a 19.200 circa vedete come gli holders ragazzi erano ai massimi storici quindi tutti erano sul mercato non avevano venduto durante la fase di ribasso precedente e si vede anche da qui ragazzi perché vi faccio anche vedere vedete la fase di ribasso vedete la fase di ribasso da qui inizia tutta questa fase va giù bitcoin e gli holder salgono perché perfettamente questo spiega perché chi fa questo tipo di attività non stoppa le perdite si dice così in gergo ragazzi quindi si tiene la perdita ma questa cosa ragazzi è successa anche in questa fase qui allora da qui in poi vedete bitcoin ha iniziato dopo i massimi la sua fase discendente che tutti conosciamo guardiamo un po' quello che è successo vedete mentre bitcoin scendeva i holder salivano ragazzi ok esattamente la stessa identica cosa che era capitata precedentemente lo stesso atteggiamento che ci aspettavamo da chi diciamo non è un investitore professionista quindi fa esattamente questo tipo di meccanismo ragazzi ed è perfettamente quello che in effetti ci aspettavamo unico frangente in cui vedete gli holder sono esattamente in linea con il mercato è stato da maggio 2019 ad agosto settembre del 2019 quindi esattamente l'anno scorso forse c'è più consapevolezza diciamo sul mercato e sicuramente le cose sono modificate poi vabbè qui ci sono delle stabilità ragazzi allora sembra che gli holder abbiano raggiunto un nuovo punto di picco se volessimo ragionare in questo modo dovremmo dire che bitcoin probabilmente ha fatto i suoi minimi perché perché questi dovrebbero essere considerati questi e questo punto qui ragazzi che è stato il minimo di pochi giorni fa a marzo quindi il crash della covid allora questi dovrebbero essere i livelli di prezzo di minimo ragazzi di bitcoin perché abbiamo gli holder che sono tecnicamente ai massimi vedete o comunque in fase di stasi quindi ci sono tenuti tutti i bitcoin dovuti a questa a questo ribasso a questa perdita che poi ragazzi in questo caso non è stata una grande differenza di prezzo perché bitcoin ha sempre oscillato tra il suo prezzo medio degli ultimi due anni che è intorno ai 6.500 7.000 dollari e ha sempre oscillato lì intorno quindi va da un massimo di 10.000 qualcosa a un minimo di 3.000 negli ultimi due anni quindi in sostanza gli holder in questa fascia non è che abbiano perso come magari è stato qui insomma perché c'è evidentemente più consapevolezza anche da parte degli investitori in criptovalute ma andando a concludere il nostro video andando a cercare di capire se bitcoin ha fatto i minimi beh ragazzi due sono le cose allora se gli holders devono ancora prendere questa fase di risalita allora probabilmente assisteremo a questo tipo di atteggiamento e spero proprio di no ragazzi ok magari gli holders ritorneranno agli stessi livelli del 2015 2016 io non credo che sia così perché vi ripeto c'è più consapevolezza sul mercato se questi livelli di bitcoin sono effettivamente il suo minimo così come era qui ragazzi 1 e 2 vedete la stessa identico atteggiamento molto simile allora a questo punto probabilmente potremmo assistere ad una fase rialzista di bitcoin e contemporaneamente ad una fase discendente degli holder che man mano che il prezzo salirà inizieranno a chiudere le loro posizioni ragazzi un po' come hanno fatto qui adesso analizziamo anche questa cosa eccetera perché dico questo perché gli holders ragazzi come non stoppano le posizioni e ripeto ancora una volta non vi arrabbiate non sono gli holders consapevoli sono gli holders quelli che stanno sul mercato e non sanno perché ci stanno ok allora quando il il prezzo sale ragazzi vedete un po' quello che fanno allora guardate qui ed è normale insomma non lasciano correre i profitti questo è un errore classico di chi investe senza esperienza vedete il numero degli holders si riduce man mano che il mercato sale vedete perché non lo lasciano correre i profitti quindi si perdono il grosso dei profitti quindi sopportano sempre tutte le perdite e poi quando i mercati vanno su vendono troppo presto ragazzi questo è un errore chiaro ed evidente e chi ne approfitta ma badate un po' ne approfittano gli speculatori che guardate cosa fanno si comprano tutti tutti il bitcoin e da qui in poi si prendono il grosso della fetta del rialzo ragazzi e mentre gli holders guardate un po' sui massimi continuano a vendere e è anche vero che i ragazzi vendono poi praticamente diventano pochissimi gli holders durante la fase di di app e questo è anche giusto ragazzi però in realtà non dovrebbe esserci questa fase in qui questo proprio perché questo mercato ed è molto bello questo è le criptovalute è diviso fra due tipi di holders quelli che sono il parco buoi appunto che esistono nei mercati hold esistono nei mercati criptovalute esistono da sempre e quelli che sono gli holders invece consapevoli abbiamo due tipi di holders nel mercato delle criptovalute e questo si vede anche da questo grafico ma allora dove siamo beh ragazzi non vi nascondo che questo indicatore unico ragazzi è importante alternativo rispetto ai grafici ci sta dicendo che forse forse bitcoin il minimo lo ha fatto un po' come ha fatto qui questo se ragazzi gli holders hanno raggiunto effettivamente un nuovo massimo e io ipotizzo che sia così si a me dà una buona impressione questo grafico mi sembra che gli holders siano ai loro massimi di periodo anche se è diverso rispetto al precedente non ha nessuna importanza l'importante è essere arrivati cioè aver fatto questa salita ragazzi questo è importante perché mentre il bitcoin scende gli holders aumentano le loro posizioni quindi in sostanza cosa ci dice questo splendido grafico ragazzi che se il bitcoin ha raggiunto i minimi potremmo assistere a un atteggiamento del genere con la conseguenza riduzione da parte degli holders delle posizioni man mano che saliremo questa è un'informazione bomba sinceramente ragazzi ma voglio anche sapere quello che pensate perché è molto opinabile questa cosa è un po' un punto di vista alternativo chiaramente non sono prezzi non sono grafici che tocchiamo con mano è una cosa strana è una cosa alternativa ma intelligente molto molto intelligente ragazzi che cosa dite voi dopo aver visto questo grafico minimi fatti sì o no ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti